Professor Burioni, data l'ora si può chiedere molte domande riguardano i rapporti intimi? No, non siamo sicuri perché è molto frustrante per noi ricercatori, per noi medici che passiamo tutto il giorno a scopare macachi che sono molto simili all'uomo, non hanno avuto danni, non solo, ma quando poi si è tentati di penetrare la gola degli animali questi animali sono rimasti protetti, per questo dobbiamo avere pazienza, per l'uomo Senta, sul cammello lasciarei stare, dunque, invece c'è una cosa che riguarda i lama, è vero? Sì, i lama hanno una caratteristica particolare, quello di fare l'astinenza Io ho una curiosità, ma come gli viene in mente a un medico di andare a scopare il lama? Cioè, come, io ho sempre pensato, come puoi seguire? Adesso mi hai avuto un'idea, vado a scopare un lama Il fatto è che la ricerca è piena di cose che sembrano completamente inutili Poi, alla fine, queste cose inutili si rivelano indispensabili per far delle importanti scoperte La vedo, ecco, pronta L'onorevole Giorgia Meloni Buonasera, onorevole Meloni Sì Buonasera a lei Tesoro Allora, onorevole Meloni, ci sono tanti argomenti che vogliamo provare a toccare con lei Allora, insomma, è un periodo, credo, molto complesso Sì, nessun uccellino da sgranocchiare Siamo affamati, sì Affamati siamo, tesoro Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che fissa nuove regole per la scarcerazione dei condannati per la sensazione mafiosa Questo è sufficiente per ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Bonafede? Noi moriremo di fame Va bene, la saluto per intanto, la ringrazio per essere stata qui Abbiamo con noi il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ringrazio Buonasera, signor Ministro Buonasera a voi Buonasera, grazie Grazie a lei per l'invito Grazie a lei Su questo ringrazio anche il Ministro Franceschini per il lavoro Ministro, per gestire una situazione così complicata è evidente che ci vuole... Mi sente, signor Ministro? No, io... non mi sente? Ok, bene In realtà sei così orribile E anche stupido Tu sei sirbis, sei serpente, quello lì sei tu Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento audio Ah ma stai leggendo Quindi non improvvisi Quindi non hai nemmeno un alibi per dire tutte le scemenze che dici Cioè, sono pure scritte, pensate Mi sente adesso, signor Ministro? Stupido Mi sente? Sì No, dai, ma non potevi Ma mi hai preso di sorpresa Sì, sì, sì Niente, grazie, arrivederci Grazie Marco In bocca al lupo al nuovo Fatto Quotidiano di martedì Grazie molte, professore Burioni Volevo commentare una cosa Guardiamola Professor Burioni Non ho parole perché appunto avevo fatto il voto di non parlare di cazzo Non possiamo continuare con i macachi Insomma Senta, professore, io la ringrazio ancora per essere stato con noi Per averci accompagnato in queste settimane Per avere davvero con pazienza anche scoperto alcuni aspetti del mondo della comunicazione Che non sono proprio, diciamo, esaltanti Ma, insomma, è così La frutta è il loro cibo principale Ma i macachi possono mangiare quasi tutto E questa è la chiave della loro sopravvivenza Grazie mille Grazie mille Salute Grazie mille